Credo che il mister mi abbia fatto capire che non si può giocare solo con i piedi buoni, ma bisogna avere qualcosa in più e penso che per completarmi mi stia trasmettendo un po' più di carisma, un po' più di cattiveria e non mollare mai fino alla fine. E penso che questo qua ci stia vedendo anche non solo in me ma in tutta la squadra, che magari negli anni passati ci mancava un po' questa cattiveria. Per quanto mi riguarda, penso che anche quest'anno per me è un anno in più di esperienza rispetto all'anno scorso, che per la prima volta affrontavo un campionato completo di Serie A, giocando con continuità. Ma poi diciamo che anche un po' le caratteristiche del mister ci dava meno intensità, ci diceva di pressare meno, perciò magari davamo l'impressione di essere più timidi. Però penso che anche l'anno scorso non mancava la cattiveria. Quest'anno sicuramente ho acquisito molta più cattiveria, sto acquisendo perché ancora penso che dovrò migliorare tanto. Però quest'anno con un tipo di gioco così più aggressivo, più intenso, magari stiamo crescendo sull'aggressività. Però secondo me un anno in più di maturazione mi ha aiutato anche quello, affrontare un campionato con molta più continuità. Però penso che già essere in una posizione di classifica così ci rende secondo me molto orgogliosi. Vuol dire che stiamo lavorando bene e che l'allenamento paga, perciò questo è fondamentale. Noi siamo una squadra molto unita, come diceva il mister prima, chiunque va in campo da sangue per il compagno. E non c'è la giusta competizione tra i propri ruoli, però senza nessuno che se la prende, che se non gioca. Sono tutti sempre in panchina presenti, quando la squadra segna esultano tutti, è una cosa che non capita in tutte le squadre. Perciò penso che anche questo qua potrà aiutarci a arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. L'ultima volta che mi hanno fatto questa domanda poi mi sono fermato a quattro gol. Perciò è meglio pensare più alla squadra, poi si segno anch'io tanto meglio, però penso che per la nazionale è il campo che parla. Perciò non mi resta solo che andare in campo e far vedere quello che so fare. Poi per i gol ci penseremo quando sarà finito il campionato. Grazie a tutti.